L'unica cosa che mi l'inquaggia di questo gioco è che hanno un po' piallato, diciamo, a meno che non credo che possa capitarti lo stronzo con la moto volante che ti metto a coglione. Eh no, quello no. Quindi avendo ricominciato devo parlare con la vedova. Diciamo, dovrei essere abbastanza somigliante alla realtà e se non per i capelli che forse il colore non è quello giusto. Tu ti sei sempre fatto un alter ego. Eh, che mi pare che non ci sono niente. Vabbè, io faccio un bicchiere. Eh, spero che... ok, perfetto, mi ha fatto riprendere da qui. Quanto sono brutto? Abbastanza. Somigliante. Perfetto. Ma questo in 4k sarà... sarà proprio tanta roba, no? Mi saluti, Edward? Edward? Di un giro. Di un giro. Di un giro. Di un giro. Il nostro nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Per me è molto più figo Il concetto da accampamento Grande eccetera eccetera Piuttosto che Mi piace molto più questo Rispetto a GTA Anche se in effetti Qua voglio sapere Se ti potevi Fare un attacco massivo Nel senso è lì C'è l'Avengers Vai Boom 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 Visto che l'altra volta Ho scoperto subito Dove si lega il cavallo Vediamo Ho un ospite Che non saluta Vedi Ma va scritto Quando ho detto Ho legato il cavallo Più 15 con la faccina del cavallo Che non so cosa segna Vabbè Andiamo Andiamo Ah io l'ho caricato apposta Per giocare con lei Vabbè fai dire L'altro giorno Quando installavo il gioco Ho caricato pure il controller Pensa un po' Ciao Ciao You must You must be a Harley's friend He's one of us He said you also were Discouraged man I'm very discouraged Disappointed Alden That's me Anyway It's a pleasure to make your acquaintance I find your reticence charming Real charming Che cacchio Che cacchio Eh certo C'è se caccia Sai quante ricette Ci stanno Allora devo comunque capire Se quell'ospite che vedo sono io stesso Perché sto controllando la chat O se ho un ospite effettivo Vabbè Ti hanno Ah Vabbè bisogna vedere che vestito è Dio devo stare attento a non far cavolate Vedo del fumo Scendiamo da cavallo Ok Andiamo del fucile Sì sì Eh no però sto a fare Di nuovo la cosa La parte iniziale Eh Devo ancora Parla Mi pare Ah no Con quella vecchietta Ci ho parlato Sto a far Uccidire i fuori legge Che poi Trovo il fortissimo Sto a far Ehm Dove li disciutti C'è una una Alla prossima! Grazie. Aiuto. Ah, altrimenti ci ho messo 47 anni a fare sto pezzetto. Già, per certi versi mi assomiglia. Sto vedendo un po' di roba di acquigliamento. Sì, non so che sto, non so che posso comprare. Comunque ieri tornando dal cinema è il sabato, non so che sono i pazzi proprio. No, no, c'è gente proprio che io corro, ma... Cioè, gli faccio un buff a quelli. Ok. Ok. Sei bene. Sei davvero bene, amico. Lo so che sono... Oggi e domani. Oggi e domani. Ieri e oggi. Cos'è? Ieri e ieri e oggi? No, gestibile, gestibile. Diciamo, vabbè, da come... Da chi... Edgy ha scritto... Il discorso che qualcuno ci poteva di... Che avremmo avuto un carico un po' più... Sostanzioso di traffico, no? Io pure mi sono ottenuto... Mi sono ottenuto... E... Aspetta, eh... Bandito... Prendi la mappa... Mi sono ottenuto un paio di chiamate per sicurezza, in realtà... Pensando che era la linea che non funzionasse, in realtà... Era... Era... Problema sempre nostro... Allora, stavolta non mi devo sbagliare e consumare la roba... Dove è la mappa? Mappa del tesoro... Ok... Non mi devo sbagliare e usare oggetti... Nagio al freddo... Imposta meta... Come si chiamava furia cavallo del west? Sinistra... Dop... Si... Abbiamo... Uncaduto... ... Uncaduto... ... ... ah poi tante volte vuoi partecipare nel senso vocalmente anche se adesso ti cotevo ancora capire eh no se tu vuoi io basta che attivo la chat party e vieni vieni anche tu vuoi salutare il mondo me lo spieghi anche a me e chissà che non la prendano più sul sul rilassante sto gioco eh si ti ho detto rispetto a GTA l'altra volta non ho dovuto neanche usare l'occhio non mi ricordo come si attiva l'occhio vabbè tanto l'ho trovata in the eye apri che sceglie di bello prendi cupon cartabilità ah già aumentato il rango orecchino di platino collana basta chiudi non chiudiamo i miei elementi sbloccati in base progressiva pausa però tu l'avevi sbloccato con abilità quella che poi segna gli avversari e poi spari a tutti insieme no? si ok 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 vai e ci prendiamo marchiato a marte ok ok equipaggiato a questo e poi vedi si può mi sa ah vabbè si può pure potenziare la forza ok ecco ci siamo hai detto il ronzino subito si vieni per le ossa ah dobbiamo andare a salvare il cavallo a tratta mi pare che ho tagliato cioè se se l'esternazione sta qua ti devo fa un giro diverso che Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Damn folk Grazie a tutti 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 Non fruga Niente Grazie a tutti Grazie a tutti Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Informazione Grazie a tutti 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 Dove si Grazie a tutti 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 Ha visto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Andiamo su Grazie a tutti Manutenzione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Don Sì, è arrivato, no? Ah, tu sei la stella rosa. Ma che stai là? Ah, sento gente che spara. Ah, tu dove stai? Stai dentro il dipartimento della polizia? Non lo so. Ecco, mi ha sparato un tizio. Eh, mi ha sparato un tizio. Che palle. Eh, qua si ammazzano tutti. Ok. 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 Aiuto! Oh! Sono morto. Dici? Eh, per cui mi ha buttato un altro sessione? Stai ancora aperto. Mmm. Ah. La gente che mi uccidono. Aspetta che ancora sto entrando. Mi sa, sto già dentro la tua posse. Eh, penso dentro qua, eh? No, ecco. La gente che era qui, Hora? E chi è quel pezziario? Ciao, donore, signor Jones. Ho detto, chi è quello? E' quel un ozore? 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 E' quel il ozore? E' quel un ozore? E' quel un ozore? E' quel un ozore? C'è sempre una strana, Hora. E' quel che mi ha pensato, Hora? Ma come si chiedi. E' che ci chiedi molto. È davvero buona. La gente era un ozore. Un ozore di un ozore. E questo? Questo è il loro negozio. Questo è il negozio del mondo. Il negozio del mondo è la gentile, e la gentile, e la malattia, e la brutale. Cosa c'è altro, mister? Cosa c'è altro altro. Cosa c'è il dolore, e la malattia, e la malattia. Oh, mister Jones è stupido. Oh, Jones è stupido. Oh, Jones è stupido in il sole. I know, I know. Get yourself something to eat. There's fellas need help. Maybe this fella can help them. Maybe. They're, uh, they're on the run. That ain't my business. My business is... what they do hereafter. That's my business. Well, they certainly need money. Yeah, there's always money. Money for them is as good, and money for them is not so good. But... Maybe they could first go see the sheriffs, and see what work is afoot. I reckon... For now, at least. We might as well try. The sheriff at Blackwater, he needs help. No, not the fella that arrested you. That was the marshal. The police chief. He's a decent enough fella for all we know. Poor bastard is overrunning. And he don't want old Jones. There's a couple other sheriffs that need help. The fella from Valentine, he's at the Painted Sky Ranch. The Tumbleweed Sheriff's at the Tumbleweed Jail. And the Blackwater Sheriff, he's at Pike's Basin. Maybe that'll show us what kind of fella this is. Go and pay them all a call. That's what I reckon. Maybe. I guess we will see. Meet me back here after you've seen them. During college. Hey-yah! Mmmm, who is our turn Nick? Come here? What are the rules? What about our door? What about our vlog? What kind of relationship? How long have we been to help? How long have they been toplex? non è uscita a trovarti però a fischiare di nuovo dopo essere spostato volendo si però mi sta acquistando resistenza bravo flash a posto aspetta ti raggiungo facciamo la strada io penso che i minuti passati con il livello sospetto 5 aspetta che levo sempre la mappa e segnalina tolto tolto faccio testa profila proprio al segnalino la mappa mappa guarda il bel tramonto non è dubbio, abbiamo sempre il fuzile a portata lontanino ah ah, mi si sta stancando il cavallo non l'avevo mai, mi si apportata l'esaurimento non l'avevo mai, non l'avevo mai non l'avevo mai, non l'avevo mai Sì. Eh, arrivi perché non so il cavallo quanto lo posso sforzare. Non vuole far stramazzare Flash. Ecco, si sta arrabbiando Flash ancora. Ma io sto a seguire comunque la strada blu. Tu che hai fatto... hai tagliato? Ecco. Hai fatto partire la missione? Ma volevo vedere. Volevo vedere il tizio. Chi ti ha dato la missione? No, ho faiato l'arma, ho detto premio per avviare... Ok. Dettagli partita. Vabbè, a sette di anni in village acquisti. Posso non fare le munizioni? Costo? Sette e quaranta. Quanto? 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 È entrato un tizio. Un barbotto. Un diciannove... Un diciannove e un dieci. Basta che ci fa il nuovo della missione. tu sei un imbecile a what? un idiot mi sono scusate ha detto che non volerà fermi ma per favore ma per favore ma per fermi ma per favore mi sono stati oh tu tu hai potuto mantenere il lavoro ma mi sono stati e hanno tutti i diritti perché sono i idioti che ti emplodano oh guarda sono stati sei un moron partner? Eh? Well, you can't be any worse than us, because this idiot, this idiot right here, just let the most notorious con man in the whole goddamn state walk clean out of a cell, clean out, and not a shot fired! Now, uh, if you can get him back for us, we'll happily pay you. How about that? Good. Good. Now, see, what I figure, is I figure he's headed on down to Pike's Basin, so you go down the canyon, and you get him, and I'm gonna beat this poor dumb bastard with a stick, and I'll try and join you on the other side. Come on. Eh, eh, eh. Eh? Eh? mangia c'è un tizio c'è un tizio che ferma mi sa perché un livello alto fa sta missione qua ma che cavolo sta facendo che c'è un figlio tutta la vita un figlio tutta la vita un figlio tutta la vita così come si fa scendere in modo tranquillo ok 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 no che sta a fa' che ha fatto sto ma che ha fatto esplodare le dinamite tipo che ha fatto che ha fatto esplodare le dinamite che ha fatto esplodare le dinamite Arrivano rinforzi? Arrivano rinforzi, immaginavo Messicani Dove stanno? Sono quelli Ma la resistenza che mi aumenta ogni tanto E roba è Ma dove stanno? Ah ma stanno là Non mi dici niente Aspetta che devo frugare Ah voi scappate subito Vabbè che sono solo munizioni Perché questo Cioè ha fatto esplodere qualcosa E ora il cavallo dice che non mi dà più retta E' un po' di più E' un po' di più E' un po' di più Io sto correndo Ah vedi la resistenza mia che aumenta Ma perché questo butta i dinamiti? Ok io sto passando da sopra a piedi Ok Però io sto su E' un po' di più E' un po' di più E' un po' di più Niente il cavallo Ancora non me lo fa chiamare Un po' di più E' 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 un po' di più Eh in teoria lo dovremmo consegnare la polizia se non sbaglio no? O lo stiamo per ammazzare? E' un po' di più 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 Rango aumentato a 5 E' un po' di più carino tutta la cronologia della missione pure carina qualcosa si classificazione classificazione e missioni non mi puoi prendere se sta la stessa fossa ma quindi non posso vedere i miei denari e i lingotti che sarebbe 188 dollari non ho comprato mai niente forse per quello io no i pezzi al cavallo andate a dormire domani si lavora ah eigidio ci monitola si andiamo a dormire eigidio mi sembra fa e vabbè si in teoria quando compare ogni volta che compare resistenza aumentata resistenza aumentata quindi è la mia me sa ah qua mi fa vedere pure i giocatori connessi gente che già sta a 29 36 se voglio vedere i miei dettagli scusa c'è dove ho fatto tutto sto giro oh mio dio oh mio dio temple ah se voglio vedere le mie statistiche come cavallo faccio se ti voglio resistenza progressi no ti fa vedere pure vengo massimo e 100 quanti impicci vabbè io voglio solo scoprire le statistiche mie come le vedo ok si vediamo sempre domani mmm ok vabbè in teoria basta che chiudo e bom si spero che il salvagone sia stato salvagone no no stavo provando a mirare a qualche volatile si si vabbè si vabbè chiudo quindi facciamo così notte si 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 si